Per le vostre diverse ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colore solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in auto carica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale continuare a perdere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.